ciao a tutti ragazzi in questo video ho ripreso tutta l'eclisse lunare che c'è stata il 28 9 2015 ma pratica sono riuscito a velocizzare fino a un minuto e mezzo tutto il video in confronto alle tre ore che doveva durare però si vedrà in movimento solo la prima parte quando la luna ancora non è rossa o meglio quando la luna sembrerebbe scomparire dietro l'ombra della terra le altre sono più che altro fermi immagini che ho messo perché troppe nuvole troppe nuvole non mi hanno consentito di registrare tutto il filmato consecutivamente bene vi lascio al video ciao 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 ciao